Oltre ad essere donna, e di mio figlio assolutamente, soprattutto, poi non soltanto, ma come prima se tu mi fai una domanda precisa, io devo dare una risposta precisa, ti dico questo. Vuoi che te la faccio? No, no, fai pure finta di niente, come se non ci fossi, poi avanti. Anche perché già dà molto fastidio, Luca, sono un po' l'isturbatore qui della puntata. Sì, sei un tipo dolce, romantico, abbiamo sentito prima il loro successo Miele, una canzone molto fast italiana. Chi è? Togliatemi il microfono. Il numero di telefono, come sempre, 06 3686 6017, per parlare con tutti i nostri ospiti, privatamente. Poi, devo salutare, allora ci sentiamo domani. Domani no. A Gianluca, ma glielo passo se vuole. Sì, sì. Ma secondo lei qual è il pregio di Gianluca, signora? La simpatia, dice la signora, abbiamo trovato una che dice un pregio a Gianluca. Mercoledì, non martedì, le passo a Gianluca. Ma cosa stai dicendo? Dimmi la verità. Farò in teatro, in questo caso ho ricordato Tre Regine, e che, insomma, è uno spettacolo veramente vario. Debutto il 13 a Modena, all'audito. Attenzione perché sono le ore che a San Mario dirà, ho voglia di scherzare, sicuramente qui si gioca, si scherza, ma si dicono anche delle cose belle, delle cose vere. L'uno di tamburi, Massimo. Io ho avuto l'opportunità di conoscere Gianluca soltanto in questo lavoro, e devo dire che... Che basta, allora. Oltre ad essere un grande professionista, insomma, tutti riconosciamo il suo talento, la sua preparazione, la tecnica, come regista, come attore, è un delizioso compagno di palcoscenico. Grazie. Vero, vero. Assolutamente. Abbiamo un filmato. Continuiamo? Ah, scusate, non ero... Eh, ma ditemelo però. Eh, ma no, ma devi essere pronto per la diretta. No, io sono pronto per la diretta, sono qui da un'ora. Fino diretto. Con... Con... Con...